Buongiorno, buongiorno il consigliere Antonio Ferrentino del Partito Democratico, Giorgio Bertola del Movimento 5 Stelle e Gianluca Vignale di Forza Italia. Per questa intervista tre voci su una legge che è stata approvata qualche giorno fa, martedì, durante l'ultima seduta in Consiglio regionale. Una legge che ha visto una discussione ampia, con momenti di confronto anche duri, serrati durante le sedute di Consiglio, legge sui parchi, che introduce alcune importanti novità all'interno di una normativa che era datata, aveva bisogno probabilmente di alcune revisioni, che introduce alcuni elementi, da un certo punto di vista, importanti, da altri, sono stati poi gli elementi che hanno contribuito a irrigidire la discussione in alcuni momenti. Quindi cominciamo da uno di questi elementi di riforma importanti, cioè la revisione degli enti di gestione, della governance, quindi della comunità, ma soprattutto del Consiglio di gestione dei parchi. Siamo di fronte a una riduzione, siamo passati da 14 a 12, la Giunta Cota aveva già ridotto il numero di questi, c'è una piccola riduzione, ma in realtà siamo di fronte anche a una revisione proprio del funzionamento del Consiglio dell'ente di gestione. Consigliere Ferrentino. Intanto è importante aver definito la governance, anche perché dovevamo porre fine a una gestione commissariale che qualche problema in molti territori l'aveva creato. Devo dire che con il lavoro in commissione si è riuscito a ridefinire una governance dell'area protetta che premiasse le competenze dei futuri presidenti delle aree di gestione e una forte rappresentanza anche territoriale. Penso che questa sia estremamente importante, anche con un coinvolgimento degli attori locali, quali sono gli amministratori locali, i sindaci, le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste. Quindi ci sembra che da questo punto di vista tutti i gruppi non avevamo apprezzato, come era riportata nella prima stesura del DL90, l'indicazione della governance dell'area protetta. Devo dire che poi sia la maggioranza, sia i gruppi di opposizione abbiamo tutti presentato delle modifiche e andavano in quel senso. Quindi per quanto riguarda la governance penso che possiamo essere soddisfatti perché alla fine penso che abbiamo in qualche modo intercettato le indicazioni di tutti i gruppi. Per quanto riguarda la governance del Consiglio dell'ente di gestione delle protette abbiamo, ritengo, fatto tutti un buon lavoro in commissione quindi c'è stata anche la disponibilità a recepire delle istanze che sono venute anche dal Movimento 5 Stelle. Sull'altro versante, quello degli accorpamenti, anche qui c'è stato un passo indietro rispetto a quello che era la lettera iniziale del designo di legge perché si passava da 14 a 9 invece si è passato da 14 a 12 quindi si è fatto una marcia indietro quasi totale sugli accorpamenti quindi secondo noi questo è un fattore positivo anche perché si è riconosciuto che probabilmente delle economie di spesa si possono ottenere magari ad esempio centralizzando gli acquisti invece che accorpando gli enti di gestione. Questo principio che in qualche modo avevamo suggerito anche noi è stato recepito ad esempio all'articolo 21 della legge che appunto prevede che tra loro gli enti di gestione facciano delle pratiche comuni sulle gestioni degli acquisti piuttosto che altro. Per ciò che riguarda la governance, confermo quanto hanno detto i miei colleghi è stato fondamentale la modifica che è stata portata per cui il presidente dell'ente di gestione del parco insomma è scelto d'intesa con i comuni nella prima stesura questo non c'era e quindi dava la possibilità alla giunta regionale di catapultare, avesse voluto, un soggetto completamente strano in territorio questo non è più possibile, lo riteniamo ovviamente positivo. non crediamo sia stata utile l'accorpamento, i due accorpamenti in particolar modo quello del Cuneese perché il parco delle Alpi Marittime il parco del Mar Guarese sono già due parchi che funzionavano molto bene peraltro il parco delle Alpi Marittime sta intraprendendo un percorso per diventare nazionale quindi crediamo sia stato un errore ma soprattutto da un punto di vista economico e gestionale metteremo tanto il parco delle Alpi Marittime quanto quello del Mar Guarese come quello del Ticine, quello del Cesea in una nuova logica di gestione comune che portava via molto tempo rischiando di perdere delle peculiarità che hanno i singoli territori quindi crediamo che questo sia stato un errore va detto non si risparmia un soldo, noi stranziamo poco più di 20 milioni di euro la Regione Piemonte sui parchi, circa 19 li spendiamo in personale quindi che il parco fosse un unico parco per tutta la Regione o i 14 di prima non si risparmia un soldo da questo punto di vista né sul resto. C'è un tema che poi magari affronteremo che invece è quello relativo alla promozione del territorio sul quale le necessità di interventi di carattere economico noi riteniamo fondamentali Ecco, proprio sul tema della promozione del territorio una delle idee che sta dietro la legge è quella che il parco oltre giustamente a tutelare il valore naturale, naturistico del parco ci sia l'idea che queste aree possono diventare anche parte di un brand, quindi di un marchio Piemonte per esempio l'idea che l'area protetta ai Sacrimonti vada sotto la competenza dell'assessorato al turismo in quanto bene protetto all'UNESCO va anche dietro l'idea che insieme alla protezione ci sia l'esigenza di promuovere anche commercialmente queste aree e per esempio in questa direzione va anche la possibilità di introdurre biglietti d'ingresso ai parchi o tariffe comunque per sostenere questo tipo di iniziativa allora questa è la doppia idea, cioè da un lato proteggere le aree naturali, dall'altro valorizzarle commercialmente è un'idea che vi vede favorevoli, pensate che se possono emergere delle criticità, possa aiutare lo sviluppo di queste aree o insomma probabilmente andremo incontro a problemi consigliere Vignale No, è l'aspetto fondamentale il gruppo di Forza Italia ha presentato gran parte degli emendamenti alcuni dei quali accolti sulla legge per far sì che la legge sui parchi non fosse solo più una legge di tutte le gestioni del territorio ma come oggi recita anche di promozione questo per un motivo molto banale, lo dico anche da ex assessore ai parchi in ogni territorio piemontese si vada ad annunciare un ampliamento di un'area parco c'è sempre una grandissima diffidenza da parte della popolazione e degli operatori economici perché giustamente anche vedono quali sono i limiti che il parco pone allora su una bilancia noi dobbiamo mettere da una parte i limiti che tutelano inevitabilmente quella che come dice il nome è un'area protetta ma anche le opportunità economiche allora credo che nelle molte cose che abbiamo cambiato intanto ce n'è una che è nominale ma fondamentale il capo 2 della legge non dice solo più tutele e gestione ma dice tutele, gestione e promozione del territorio da lì l'abbiamo declinata con uno strumento che secondo noi è il più importante l'articolo 14, aver istituito la consulta del territorio la consulta del territorio non è altro che quel soggetto istituzionale all'interno del quale sono presenti tutte le associazioni di categoria quindi gli agricoltori, i commercianti, gli operatori turistici ma anche coloro i quali vivono nel territorio per cui dal CAI alle guide alpine, ad associazioni che non hanno un rilievo nazionale ma hanno un rilievo locale, a quelle ambientali, a quelle venatorie tutti coloro i quali possono in qualche modo dare, vivere e dare impulso al territorio perché è importante perché non avremo soltanto più il consiglio di gestione individuato dai sindaci della regione, non avremo solo più la comunità dei sindaci la comunità del parco in cui sono rappresentati i sindaci ma avremo anche la consulta del territorio che rappresenta tutto ciò che sono coloro i quali vivono e lavorano nel parco con importanti ruoli in termini di approvazione e valutazione rispetto al piano di gestione, rispetto alla deregolamentazione possibile per differentiare quindi questa noi riteniamo sia la miglioria più significativa che il nostro gruppo consigliare ha portato Consigliere Bertola La promozione e la valorizzazione commerciale di quello che è stato definito il brand dei parchi piemontesi è accettabile quando ovviamente non confligge con le esigenze di tutela e di protezione non siamo invece d'accordo con la possibilità di introdurre un biglietto d'ingresso non eravamo d'accordo quando è stato proposto in commissione e d'altronde in commissione non era stato approvato così come non siamo stati d'accordo quando è stato proposto in aula ma detto che già ora nei parchi vengono fatti pagare e questo secondo noi è più che accettabile dei servizi accessori come il parcheggio o magari l'area con la guida o con servizi particolari non siamo invece appunto d'accordo a far pagare un biglietto d'ingresso se si voleva prevedere probabilmente andava messo qualche parametro, qualche paletto in più ad esempio riferirsi e dare la possibilità di farlo a aree protette che magari hanno un carico antropico più forte magari in determinati periodi dell'anno e anche in relazione alle caratteristiche specifiche dell'area quindi su questo non siamo d'accordo e non vogliamo nemmeno che la possibilità di far pagare un biglietto d'ingresso diventi un alibi, una scusante per un abbandono da parte della regione quindi con una riduzione ulteriore di risorse a favore dei parchi Consigliere Ferrantino Intanto noi consideriamo questa legge sui parchi un punto di partenza dire che l'obiettivo che è stato posto per la modifica della 2019 era di porre fine alla gestione commissariale la possibilità di gestire come assessorato al turismo i Sacrimonti e ovviamente a riprova di questo a nome del Partito Democratico ho presentato un ordine del giorno che prova a fissare quelli che potrebbero essere gli obiettivi alti da raggiungere nel corso della legislatura nel senso, poi arriviamo al biglietto d'ingresso nel senso che sarebbe per esempio molto importante provare a mettere insieme le potenzialità di tutto il settore ambiente della regione penso all'IPRA, penso al Busce di Scienze Naturale penso all'immenso patrimonio di risorse umane che è costituito dalle centinaia di operai forestali che inseriti in un progetto di valorizzazione e di compressiva potrebbe essere un valore aggiunto per una miriade di interventi che potrebbero essere fatti in collegamento tra le aree protette e le amministrazioni comunali per quanto riguarda noi siamo assolutamente d'accordo che le aree protette devono essere un elemento di sviluppo del territorio ovviamente coniugare la tutela con la valorizzazione e la promozione del territorio in questo è stato proposto da Forza Italia voglio solo ribadire che è una possibilità e visto che noi abbiamo cambiato la governance dando responsabilità ai politici locali rappresentativi e competenti saranno loro caso per caso a verificare se ci sono le condizioni se è utile che ci possa essere un biglietto di ingresso che ovviamente possa essere utilizzato per implementare le attività del parco quindi avendo lasciato solo la possibilità e responsabilizzando la governance locale penso che sia un'opportunità che potrà essere valutata nel corso dei prossimi sei mesi, nel prossimo anno leggiamo sui giornali per esempio che anche qualche sindaco dei comuni montani comincia a capire che il carico antropico portato dall'attraversamento di alcune strade molto fragile dal punto di vista dell'equilibrio geomofologico e di alcuni versanti possa prevedere un pedaggiamento per le auto che attraversano queste strade impegnandosi ovviamente a utilizzare le risorse per attività manutentive io penso che non l'abbiamo proposto noi l'ha proposto il gruppo di Forza Italia l'abbiamo valutato come positivo come un esperimento da mettere a disposizione della responsabilità dei consigli di amministrazione delle aree protette quindi saranno loro a decidere in quali casi può essere utile utilizzare un biglietto di ingresso Ecco, partendo dal consigliere Bertola poi per l'ultimo giro come si diceva in introduzione uno dei momenti di più forte confronto e frizione fra maggioranza e posizione è stata poi la richiesta di contingentamento dei tempi Allora, al consigliere Bertola poi al consigliere Vignale chiedo dal loro punto di vista quindi se non ci fosse stato il contingentamento dei tempi che cosa avreste voluto vedere di più in questa legge poi invece al consigliere Ferrentino chiedo visto che c'è l'esigenza di arrivare per la maggioranza a un'approvazione celere di questa normativa e si è detto è un punto di partenza non un punto di arrivo cosa vi aspettate? Quali secondo voi possono essere i prossimi passi? Consigliere Bertola La vicenda legata al contingentamento dei tempi riguarda non solo ovviamente il provvedimento specifico ma attiene anche ai rapporti tra maggioranza ed opposizione consigliare noi abbiamo ritenuto che non fosse necessario imporre il contingentamento specie se valutiamo che si era solo alla seconda seduta di aula e che d'altra parte non erano ancora state effettuate e nemmeno richieste sedute straordinarie quindi il consiglio è ancora pienamente operativo e sta lavorando ancora tanto è vero che abbiamo anche oggi ancora delle commissioni si poteva anche prevedere una seduta ad esempio per il giorno di mercoledì quindi ci sarebbe stato anche più tempo per discutere ed eventualmente arrivare a dei punti di incontro su questioni su questioni ancora sospese e in generale come dicevo non siamo d'accordo con questo utilizzo che sta diventando un po' a nostro avviso eccessivo dello strumento del contingentamento consigliere Vignale io credo che il contingentamento che tanto è la ghigliottina cioè dire non si discute più entro un certo momento la legge si vota non si altro che la modalità con cui la maggioranza secondo noi sbagliando è iniziata la discussione della legge noi abbiamo passato 25 sedute in commissione è vero che molte di queste le abbiamo passate perché il nostro gruppo consigliare ha fatto un'attività diciamo si può definire istruzionistica o di puntualità della norma qual è stato secondo noi l'errore? quello che diceva proprio il collega Ferrentino prima cioè prevedere che ci sia un momento in cui si discute una legge finalizzata sostanzialmente alle nomine dei presidenti perché questo è e poi è vera la distinzione dei sacrimonti e ci sia un secondo momento in cui invece si ridiscute complessivamente la legge qual è stata la nostra finalità? è stata quella di dire visto che il tempo è uno non è moltiplicabile visto che stiamo discutendo del testo unico sulle aree protette discutiamolo integralmente se avessimo utilizzato non 25 ma 15 commissioni con questo approccio cioè quello di migliorare la legge oggi verosimilmente non dovremmo assistere a un secondo momento ricordo che quando torneremo in un secondo momento sulla legge 19 vorrà dire che sottrarremo del tempo per un'altra attività legislativa che avremmo potuto fare in questo momento allora c'è anche un tema che è quello dell'efficienza dell'attività dei noi legislatori che va tenuto in considerazione non c'è nessuno che in un'azienda né in una famiglia se deve fare una cosa dice adesso ne faccio un pezzetto poi fra sei mesi faccio il secondo pezzetto si tende a fare tutto subito e questo è quello che sia stato l'errore consigliere Ferrentino in chiusura ovviamente io sono in totale disaccordo con l'intervento del collega Vignale noi avevamo detto all'inizio come gruppo dei partiti democratici che questa DDL 90 era una si poneva degli obiettivi non alti proprio perché avremmo voluto affrontare i problemi in modo più organico e questo voleva dire arriva anche alla proposta anche quella che magari una proposta di legge non lasciarla farla raggiunta ma poter pensare che un gruppo formato da consiglieri delle varie forze politiche presenti in consiglio regionale possa provare a lavorare su quello che dovrebbe essere una proposta di legge che modifichi in modo sostanziale la 19 devo dire che sull'atteggiamento intanto mi tocca distinguere il Movimento 5 Stelle ha presentato pochi emendamenti quasi tutti nel merito della discussione il gruppo di Forza Italia specialmente dopo le prime 10-12 riunioni di commissione ha legittimamente messo in atto un atteggiamento istruzionistico dove di merito non si è parlato quasi più e quindi se dopo un disegno di legge che non era granché era poca roba si poneva degli obiettivi appunto non altissimi dopo 25 sedute di commissione penso che se si voleva affrontare nel merito l'IDL 90 c'è stato tutto lo spazio quindi anche se con assoluta diciamo non soddisfazione ma quando il presidente della giunta a nome dell'esecutivo ha chiesto al presidente del consiglio di contingentare i tempi io penso che però giungeva al termine di un percorso lavoro di commissione e la prima seduta del consiglio che aveva avuto anche tre interruzioni per provare a trovare una soluzione politica voglio dire che era stata attivata durante il lavoro di commissione anche diciamo in modo informale un lavoro politico di accompagnamento il lavoro della commissione proprio per arrivare a una soluzione condivisa quella che dice consigliere Vignale rispetto al fatto di farlo in un unico tempo la modifica sostanziale della 19 io penso che confliggeva con la necessità di arrivare in tempi brevi a nominare i presidenti in sostituzione dei commissari teniamo presente che in questo modo i presidenti verranno ragionevolmente eletti e entreranno in carico dal primo gennaio 2016 probabilmente se il disegno di legge fosse stato più ambizioso la fase di commissariamento sarebbe durata probabilmente almeno per metà del 2016 e non penso che questo era auspicabile da parte della maggioranza ma voglio auspicare dell'intero consiglio quindi abbiamo adesso uno strumento che permette di avere una governance espressa da territorio se c'è la volontà di lavorare all'atere del lavoro del consiglio e delle commissioni senza assolutamente mettere in discussione l'efficacia del funzionamento del consiglio si può lavorare noi lo faremo sicuramente siamo anche assolutamente disponibili a farlo in concorso con gli altri gruppi per provare a trasformare i diversi ordini del giorno che abbiamo approvato in modo congiunto e anche tesorizzare il lavoro di ascolto che abbiamo fatto nelle tante sedute di commissioni e nelle decine di incontri sui territori io penso che quello che diceva il consigliere Vignale teniamo presente che ci sono richieste dai territori di modifiche delle aree protette penso a Staffarda e dal Parco della Dora che ovviamente hanno una fase di concertazione col territorio che non avrebbero minimamente permesso di rispettare i tempi che l'esecutiva aveva chiesto per quanto riguarda porre fine alla fase di commissariamento quindi per questo motivo archiviando questo primo provvedimento sull'area protetta noi siamo come Partito Democratico disponibile a mettere sotto un tavolo per provare a scrivere delle regole molto più ambiziosi da portare poi all'attenzione del Consiglio regionale bene allora io ringrazio il consigliere Antonio Ferrentino del Partito Democratico il consigliere Giorgio Bertolla del Movimento 5 Stelle il consigliere Gianluca Vignale di Forza Italia vi ricordo che questa intervista andrà poi verrà posizionata sulla nostra piattaforma della social tv crpiemonte.tv sarà poi fruibile a chiunque via web e una sintesi la troverete nel prossimo numero di notizie del nostro magazine grazie a tutti e buon lavoro grazie a tutti